Se state cercando un negozio in cui sentirvi a vostro agio qualunque sia la vostra fisicità, in cui respirare il profumo di casa e di consiglio a essere spassionati, se cercate un negozio in cui trovare soluzioni ai vostri problemi di look, sia per affrontare comodamente le vostre sfide lavorative quotidiane, sia per un cambio look, quindi un cambio di immagine in un momento particolare della vostra vita in cui avete bisogno di rinnovamento, sia per stupire a un evento a cui tenete particolarmente o semplicemente per sopravvivere indenni ai momenti cerimonia che tanto amiamo e tanto temiamo. Beh, l'avete trovato! Benvenuti da Vitalina Fashion Store. Cosa troverete da Vitalina Fashion Store che non troverete altrove? Noi! Quattro generazioni a servizio del cliente e un team straordinario che condivide la nostra mission. Ogni persona ha la sua bellezza, ogni viso ha i suoi colori, ogni vita ha il suo armadio e ogni personalità ha il suo stile, perché ognuno è unico e di unica bellezza. Questo è un grande negozio con un servizio mirato al cliente. Cercheremo di non essere assillanti, ma se vorrete saremo al vostro fianco per aiutarvi a fare la scelta che riterrete migliore per voi. Vi aspettiamo a Porcari, in provincia di Lucca, a tre minuti dal casello dell'autostrada di Capannori, seguendo le indicazioni per Altopascio. Da noi troverete un grande parcheggio per un grande negozio, potrete acquistare abbigliamento uomo, donna e bambino, in più abbiamo un reparto stupendo per la casa, quindi biancheria per la casa, tessuto ammetraggio e tessuto per abbigliamento. Vi aspettiamo, se volete farvi un'idea su di noi prima di venire a trovarci, potete visitare il nostro sito www.vitalina.it o le nostre pagine Facebook e Instagram, Vitalina Fashion Store. Potete leggere tutte le recensioni di nostri clienti, sia quelle belle che quelle brutte, e poi decidere di venire a trovarci. Ciao!